Un delinquente, di fare una cosa del genere, non mi sarei mai aspettato una cosa così. Io ho detto, mi sono quel giorno, mi sono vergognato. C'era nessuno di tutti, non c'era nessuno, mi spieghi perché da te là è pieno. Ed ecco l'invitato d'onore, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, dopo le vacanze caraibiche. Beh l'accoglienza non è il massimo.